Un memoria l'organizzato dai volontari dell'Hospice di Bitonto per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di presidi utili per la terapia occupazionale. L'evento, dedicato all'ingegnere Michele Castellaneta, progettista della struttura e da poco scomparso, si è svolto ieri mattina a Bitonto. La mattina un quadrangolare di calcio allo stadio Città degli Ulivi, durante il quale si sono confrontate le rappresentative dei docenti, degli architetti, dei commercialisti e degli avvocati e al pomeriggio un evento spettacolare nella sala polifunzionale della Fondazione. Protagonista è stata Male Angela Luano, reduce dai numerosi successi in tutta Italia per le sue performance artistiche e musical, che hanno toccato anche la Puglia. La giornata, ideata dall'abbraccio il gruppo di volontari dell'Hospice, ha molto colpito la signora Rosangela, vedova del professionista, presente e partecipe sia al momento sportivo sia all'evento serale nella sede della Fondazione. L'obiettivo dichiarato, come sottolineato da Maria Castro, responsabile del gruppo di volontariato, è stato quello di raccogliere i fondi per dotare le stanze dei pazienti dei presidi sanitari per poter realizzare la cosiddetta terapia occupazionale, una terapia riabilitativa incentrata sullo sviluppo e il mantenimento delle capacità di agire delle persone. Don Ciccio Savino, presidente della Fondazione, presente allo stadio nelle inedite vesti di commentatore sportivo, non ha perso l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro in cui si sono impegnati e si impegnano per garantire la solidarietà in una struttura particolare come quella dell'Hospice.